Avverto che l'audizione odierna, ove non vi siano obiezioni, sarà trasmessa in differita sulla web tv della Camera dei Deputati. La Commissione è oggi convocata per proseguire il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge 780 caso, recante modifica gli articoli 132 terre e 134 del Codice, di cui è il Decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli e motori. Saluto quindi i rappresentanti di Casa Artigiani, di Confartigianato e della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Mediimpresa, esattamente il dottor Paolo Melfa, dottor Bruno Panieri, dottor Pino Pace, dottor Franco Mingozzi e dottoressa Antonella Grasso. Darei quindi loro la parola invitandole a contenere la relazione illustrativa sul provvedimento in una quindicina di minuti complessivi, anche al fine di lasciare adeguato tempo al successivo dibattito. Vorrei dirle che tutti i gruppi sono rappresentati, in senso che abbiamo l'onorevole Pastorino Di Leo, l'onorevole Caso che è il presentatore della proposta, l'onorevole Caso Movimento 5 Stelle, l'onorevole Topo PD, l'onorevole Baratto di Forza Italia e l'onorevole Paternoster, oltre che a sottoscritto della Lega. Prego. Innanzitutto ringraziamo il Presidente e i compiamenti della Commissione Finanze per l'opportunità di confronto su un tema particolarmente delicato come il disegno di legge numero 780. La proposta di disegno di legge 780. In linea di massima questa proposta di legge riguarda prevalentemente le tariffe e nella sottispecie, in particolare dalla lettura che abbiamo dato, riguarda soprattutto la differenziazione che c'è tra le tariffe, cioè tra il costo della tariffa RC Auto nelle varie province d'Italia. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che il danneggiato virtuoso che non causa incidenti debba avere lo stesso trattamento in tutte le province d'Italia. su questo noi come artigiani carrozzieri non possiamo entrare più di tanto in merito. Possiamo entrare invece in merito a quello che può essere il contributo che possiamo dare noi autoriparatori su uno degli obiettivi, presumo, del Governo che sia la riduzione delle tariffe e sull'RC Auto. Su questo noi dovremmo focalizzarci prevalentemente su due punti. Il primo punto è il contributo che dà l'autoriparatore in termini di sicurezza. Abbiamo avuto modo di leggere nelle premesse che c'è un passaggio dove si parla che non sono state assolutamente messe in atto delle misure per ridurre la frequenza dei sinistri e questo riteniamo che di poter dire che chiunque faccia parte di questo mercato possa dire il contrario, nel senso che la riduzione della frequenza dei sinistri c'è stata ed è un dato incontrovertibile e questo grazie alle case automobilistiche che hanno immesso sul mercato delle auto sempre più sicure e soprattutto anche grazie al fatto che gli artigiani e che gli autoriparatori danno il loro contributo per far sì che il parco autocircolante con le manutenzioni che noi effettuiamo sia di carattere ordinario che di carattere straordinario vengono eseguite a regola d'arte perché gli autoriparatori italiani riteniamo siano un'eccellenza nel mondo, lo dice la storia, lo dice quello che è stato il mondo dell'automobile per quanto riguarda gli italiani. Quindi da questo punto di vista il nostro contributo sarà sempre maggiore perché noi continueremo a sostenere la formazione in un momento in cui è importante la formazione perché tutti sappiamo come il cambiamento che c'è in atto nel mondo dell'automobile soprattutto in termini di innovazione tecnologica e parlo in questo caso di sistemi adattivi e di assistenza alla guida e in un prossimo futuro ci vedrà sempre più impegnati perché la tecnologia farà sicuramente sempre dei passi avanti e su questo noi continueremo a mantenere l'impegno che abbiamo dimostrato nell'arco dell'esercizio della nostra attività negli anni che abbiamo passato. Il secondo punto su cui l'artigiano carrozziere può dare, l'artigiano autoriparatore può dare un contributo è sicuramente riguarda l'efficientamento del processo liquidativo. Il processo liquidativo che oggi vede ancora un mercato deregolamentato nonostante l'entrata in vigore della legge 124 noi continuiamo ad assistere a delle situazioni anomale nel senso che ci sono vengono immesse ancora sul mercato dei contratti che prevedono l'indenizio in forma specifica dei contratti che limitano la libertà di scelta del danneggiato e quindi anche la libera concorrenza tra gli autoriparatori e noi su questo ovviamente abbiamo sempre portato avanti la nostra lotta non ultima, quella della legge 124 dell'agosto 2017. Noi per contribuire a rendere più efficienti i processi per la liquidazione del danno abbiamo iniziato un percorso che è sostanzialmente quello previsto all'interno della legge 124 che riguarda l'articolo 1,10 della citata legge che sostanzialmente recita che l'associazione maggiormente rappresentativa agli artigiani carrozzieri, le associazioni che rappresentano le assicurazioni, le associazioni dei consumatori definiscano di intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148 bis. Quindi l'ambito in cui dobbiamo agire, secondo il legislatore, è l'ambito dell'RC auto perché l'articolo 148 bis regolamenta il risarcimento RC auto. E noi su questo abbiamo lavorato parecchio, ci siamo impegnati e abbiamo firmato dopo una lunga trattativa che ci ha visto impegnati tutte le confederazioni, i consumatori, l'associazione che rappresenta le compagnie di assicurazione e tutto questo, le confederazioni artigiane hanno da tempo messo in campo azioni che hanno come obiettivo quello di promuovere i fattori di criticità presenti nel mercato riparativo dei veicoli e soprattutto nel meccanismo di risarcimento che di fatto ostacolano la piena applicazione della normativa vigente in materia RC auto, determinando ricadute negative su tutti gli attori coinvolti nel processo. È un po' quello che dicevo prima, nonostante l'entrata in vigore della legge 124 ci troviamo di fronte a delle difficoltà. In particolare le attuali irregolarità, disparità e restrizioni nel mercato vanno a limitare il diritto di sciato dell'utente automobilista e a condizionare in maniera impegnativa le attività imprenditoriali degli autoriparatori e ad alimentare situazioni di conflittualità e contenzioso con ingenti costi addizionali a carico di tutto il sistema che inevitabilmente si ripercuotono sui premi assicurativi. E su questo argomento vorrevo fare una piccola precisazione. Che il valore del danno a cose incide sul totale del risarcimento RC auto incide per il 37,5% sul totale dei sinistri perché il resto dei sinistri riguardano sinistri gravi, sinistri meno gravi, sinistri mortali e quant'altro. Il totale del risarcimento del danno materiale ammonta circa 4 miliardi di euro. Questi sono dati IVAS, non sono dati che mi sono inventato io. Le spese legali incidono per il 15% sul totale dei risarcimento del danno materiale. Quindi parliamo di un importo che si aggira intorno ai 600 milioni di euro, un importo importante. Quindi noi riteniamo che attraverso la firma delle linee guida che sono state sottoscritte e firmate il 16 maggio si possa efficientare di più il sistema di risarcimento del danno perché abbiamo individuato soprattutto nella seconda parte, quella facoltativa, delle regole, delle procedure che sicuramente se messe in atto vedranno un abbattimento del contenzioso tra le aziende di autoriparazione e le compagnie di assicurazione. Contenzioso che spesso è dovuto, proprio io lo dico banalmente perché lavoro in azienda quindi tutti i giorni mi sconto con queste problematiche perché in alcuni casi si fa veramente fatica a contattare la compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno. Io divido il risarcimento in tre fasi per rendere un po' meglio l'idea. La prima fase è l'apertura del sinistro, la seconda fase è la quantificazione del danno e la terza fase è il risarcimento. Per quanto riguarda le prime due fasi generalmente non ci sono grossi problemi il grosso problema è che abbiamo una terza fase, quando dobbiamo farci liquidare perché purtroppo ci rivolgiamo, spesso le compagnie affidano la liquidazione a dei call center per cui mettersi in contatto con il liquidatore che ha la responsabilità di concordare il valore del danno e quindi concordare la riparazione e l'effettuazione della fattura si hanno delle grosse difficoltà. Un altro argomento che ci teniamo in particolare a precisare avendo letto con attenzione la proposta di legge riguarda inoltre il fatto che riscontriamo nella relazione introduttiva della proposta di legge in oggetto che si fa riferimento all'apertura di un confronto con tutti i soggetti interessati affinché attraverso la partecipazione del pubblico, delle imprese di assicurazione e delle diverse categorie interessate si individuino soluzioni efficaci quanto condivise. Ciò appare una riproduzione e una sovrapposizione rispetto a quanto già espressamente previsto dall'articolo 1,10 che prima ho recitato e riteniamo quindi del tutto superfluo e improduttivo andarle a replicare. Per le scriventi e le organizzazioni non si tratta quindi di prevedere nuove norme che andrebbero ad appesantire il sistema ma di dare concreta attuazione a questa riforma che ci ha visto particolarmente impegnati. Quindi parlo delle linee guida. Ovvero nelle linee guida per le riparazioni a regola d'arte sottoscritte il 16 maggio del 2019 che vanno nella direzione di semplificare le procedure e il flusso del sistema riparativo liquidativo e ristabilire dinamiche concorrenziali sul mercato a beneficio del consumatore automobilista che deve offrire del servizio riparativo. Tutto questo con l'obiettivo che ho detto prima di ridurre il contenzioso. Un'altra cosa che ci teniamo a precisare è che le linee guida per le riparazioni a regola d'arte quale strumento di importanza valenta che apporterà vantaggi per l'intera collettività possa trovare al più presto la promozione istituzionale attraverso le forme di pubblicizzazione ufficiali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dal legislatore un passaggio che ancora purtroppo non è avvenuto nonostante il Ministero sia stato tempestivamente informato della sottoscrizione del documento perché noi il giorno che abbiamo sottoscritto il documento abbiamo inviato copia al Ministero dello Sviluppo Economico e ad oggi non abbiamo ancora avuto la pubblicazione di queste linee guida. Un'altra cosa che ci teniamo a precisare è che noi riteniamo le linee guida attuate, funzionali appena saremo in grado di, perché dovremmo tradurle poi in realtà, quindi c'è tutta una parte che riguarda la parte attuativa di queste regole e procedure che abbiamo concordato che hanno l'obiettivo di semplificare e di ridurre il contenzioso salvaguardando sempre perché all'interno delle linee guida una cosa su cui abbiamo posto la massima attenzione è la salvaguardia del diritto del danneggiato a ottenere l'integrale risarcimento del danno e il diritto del danneggiato di scegliere il suo autoriparatore di fiducia. Io direi che per quanto mi riguarda ho concluso, vi ringrazio ancora per il lavoro che state portando avanti e sono a disposizione per altre osservazioni. Il rappresentante ti ha parlato, ho parlato a nome di tutte le confederazioni quindi io non ho niente di più e di meglio da dire lui credo che si sia espresso nel modo corretto, nel modo giusto se avete però delle domande da farci io sono potuto rispondere. Allora innanzitutto grazie della vostra presenza qui e soprattutto grazie per averci dato un ulteriore approfondimento all'interno volevo solo chiarire sulla questione della nota illustrativa all'interno diciamo come cappello alla proposta di legge è semplicemente un escursus ed un percorso per far capire che c'è bisogno di una condivisione tra le varie parti sociali per poter arrivare ad un giusto risultato e quindi era questa l'espressione all'interno della nota illustrativa e diciamo mi fa piacere che si è appunto avvertito qual è l'obiettivo della proposta di legge appunto è quella di premiare i cittadini virtuosi premiare coloro i quali appunto non diciamo guidano in maniera virtuosa e soprattutto non innescano meccanismi particolari in questo settore e quindi io volevo solamente capire meglio se sarebbe appunto un'ipotesi progettare un cambio di rotta cioè cambiare di nuovo il sistema del risarcimento diretto potrebbe essere un'ulteriore strada al di là della questione delle tariffe oppure va bene il sistema del risarcimento diretto così come ad oggi? Grazie Prego Io penso che ciò che abbiamo messo in campo siano, faccio un discorso un po' più siano linee guida sane dico sane perché per vari motivi perché permettono all'utilizzatore di vetture e qui siamo tutti utilizzatori di vetture mi pare di capire i quali possono decidere nel momento in cui hanno un problema di potersi rivolgere al loro autoreparatore di fiducia di poter cedere, di poter usufruire della cessione del credito cosa che oggi è un po' complicato e quindi dal proprio riparatore di fiducia perché dal riparatore di fiducia? perché sono convinti hanno avuto sono convinti di ottenere il massimo rispetto non solo del mezzo che andrà ad essere riparato ma anche della persona che lo porterà riparato perché c'è questo rapporto anche visivo fra l'utilizzatore e il tu sei un personaggio non dico della famiglia ma sei un cliente tu è un cliente proprio della carrosseria o dell'autofficina credo che sia di Cossana anche per l'officina meccanica perché si troverà a lavorare in perfetta regola d'arte ma io credo che la perfetta regola d'arte sia un'espressione un po' impropria perché chi lavora chi gestisce chi io mi considero il paladino della sicurezza stradale quindi io devo dare sicurezza a chi poi guiderà quella vettura quindi devo lavorare in perfetta regola d'arte ma al di là di questo secondo anche i parametri delle case costruttrici ogni casa costruttrice ha il proprio mezzo per la riparazione della vettura e non a caso noi ci siamo non a caso noi ci siamo confrontati anche con i costruttori delle case costruttrici perché sia molto più facile per noi arrivare ad avere quelle indicazioni che poi servono per fare un lavoro per fare una regola d'arte e credo che sia sano anche per la compagnia di per la compagnia di assicurazione perché si troveranno a pagare un lavoro eseguito e sottolineo eseguito oggi non sempre così e si troveranno a pagarlo per mezzo di una fattura o di una riscita fiscale dipende nella quale sta scritto tutto ciò che l'operatore ha prodotto non solo la riparazione della vettura ma anche i servizi che è stato in grado di offrire al cliente danneggiato e qui parlo per esempio di carro trezzi di macchina sostitutiva di costruire la pratica insomma tutta una serie di servizi che vengono dati all'utente l'assicurazione si troverà a sapere esattamente avrà come dire una specie di carta di identità di quella riparazione che sarà vista volendo nell'arco del tempo potremmo andare a estrapolarla quando qualcuno magari ti chiederà qualche cosa quindi credo che così come abbiamo presentato questa cosa sia non dico la perfezione perché la perfezione non c'è da nessuna parte del mondo ma che sia un sistema è come dire qualcuno ha detto fra gentiluomini ecco poi magari gentiluomini non ce ne sono più però insomma credo che questo sia il fatto così come sta funzionando oggi credo che non vada bene nessuno queste linee guida credo che mantenendo ciò che abbiamo detto credo che siano non dico la panacea di tutti i mali ma credo che sanino una certa situazione che oggi è perlomeno bizzarra quindi noi che facciamo le riparazioni e noi di questo parliamo non di altre cose potremmo è come dire la butto lì in un modo molto i patrocinatori e gli avvocati del nostro mercato non dovrebbero più entrarci creando problemi di aumento delle tariffe delle tariffe delle 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 compagnie e quant'altro insomma e quindi speriamo che questo sia anche un calmieratore per i premi poi qualcuno dovrà spiegare perché si chiamano premi dell'eseguazione grazie Onorevole Toppo Sì grazie ovviamente per essere qua volevo solo fare una domanda queste linee guida che devono essere ovviamente recepite con un atto ministeriale hanno sicuramente un effetto rispetto all'integrale risarcimento e alla libera scelta di riparatori ma producono possono produrre un effetto anche rispetto al dato che è emerso cioè sull'ammontare complessivo delle riparazioni c'è un effetto anche di riduzione la domanda è questa su quello che oggi sostiene il sistema per le riparazioni certo che porterà un effetto di calmierazione perché il doppio sinistro dello stesso sinistro che veniva pagato molto spesso questa è storia di tutti i giorni non invento niente di nuovo non sarà più possibile anche perché all'interno delle linee guida c'è una parte che è dedicata ad una piattaforma informativa è una piattaforma informativa a cui potranno accedere l'ANIA i consumatori e i carrozzieri a tal fine di evitare che il furbetto venga colpito il comportamento virtuoso venga premiato quindi il motivo principale è questo soprattutto il motivo principale oltre che avere dato attuazione ad una norma di legge è quello di dare una serenità operativa a tutti perché il discorso di dover combattere 20 minuti 40 minuti al telefono col call center per farsi rispondere per un sinistro con il sistema informatico viene completamente superato e questo comporta una diminuzione di costi in generale grazie Onorevole Pastorino io non aggiungo altro io credo che intanto ringrazio anch'io per le informazioni sulla questione delle linee guida quindi della legge del 124 2017 ricordo che avevamo già avuto un'interlocuzione nella scorsa legislatura che aveva portato a quel risultato avrei fatto la stessa domanda del collega Topo perché come potete immaginare prima di voi sono venuti degli altri poi in audizione hanno magari altri non presenti diciamo tra i firmatari delle linee guida che hanno un'impostazione diversa rispetto alla vostra o perché esclusi dal tavolo perché hanno sicuramente interessante è stato interessante ringrazio il relatore intanto per averci fatto capire i numeri del contenzioso il 15% l'efficacia diciamo di questo sistema finalizzato come si diceva a ridurre comunque complessivamente l'operazione e la tracciabilità di tutto quanto è sicuramente un dato del quale la commissione dovrà tenere conto nella discussione fermo restando quelli che sono gli obiettivi del provvedimento prima firma a caso che mi pare siano chiari a tutti quindi non era una domanda ma era un ringraziamento anche per aver fatto un po' luce su numeri che molto spesso sono un po' opachi se non ci sono altre domande io ringrazierei gli ospiti e chiuderei le audizioni grazie